inizia il filmino ciao 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 mario al scello 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 la tua ragazza mi sta picchiando la tua ragazza mena la tua ragazza mena dai tentate amore il biglietto amore bravo il biglietto filmami mentre mi perdiscono la bottiglia che non posso porre la bottiglia amore prendi il capello ce la puoi fare dai il biglietto a te il capello a me tu ti do no entra di qua andiamo di là vabbè un attimo torniamo indietro e vabbè 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 andiamo vediamo di fare i fili di tutta portati vai vabbè 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 ma vabbè 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 Grazie a tutti.